Il tifoso dell'Avellino si è ormai abituato a convivere con rinvii, attese e speranze. È un paradosso determinato dai fatti. Veniamo appunto ai fatti, quelli della società, una società che continua ad essere avvolta dal mistero per quanto avviene in tribunale. C'è stata la riunione ieri con i creditori ma anche con i commissari e nelle prossime 24-48 ore si deciderà se concedere la proroga al prossimo novembre per il concordato. Quindi si potrebbe slittare per avere un quadro più certo, definito, della situazione a novembre anche perché c'è questa manifestazione di interesse da parte di Italgas e altre aziende. E quindi già questo è un primo paletto che ci porta a vivere un'attesa, una speranza che tutto possa andare per il meglio. Nel frattempo però dobbiamo ringraziare questa squadra fatta di veri uomini, a iniziare da Giovanni Ignoffo e Daniele Cinelli che gli hanno dato un'anima e un'identità insieme a Salvatore Di Somma, ma anche a questi calciatori che ci stanno entusiasmando. Attenzione però a non caricare anche questi ragazzi di troppa responsabilità perché dobbiamo vivere questo periodo, queste prossime soprattutto quattro partite con un calendario sulla carta abbordabile possibilmente senza caricare questi ragazzi di chissà quale responsabilità rischiando poi di avere un effetto boomerang. Ci sono degli esami da superare, Bisceglie e Francavilla in casa, Cavese fuori e Rende in casa. Cambierà qualcosa, cambierà che l'avversario non ci sottovaluterà più, cambierà che non saremo più costretti a starcene dietro, favoriti a starcene dietro e poi ripartire ma probabilmente dovremo fare la partita. La partita cambierà come dicevo con il mio timore che qualcuno potrebbe ormai già pensare di avere chissà che squadra in mano. Invece non è così, andiamoci con cautela e viviamo alla giornata come ha detto Giovanni Ignoffo, quindi carpe diem sia per quanto riguarda la società sia soprattutto per quanto riguarda la squadra. Grazie. Grazie. Grazie.